Ciao a tutti ragazzi e ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi su Bluestacks 5 a causa di un errore che è incompatibile con le impostazioni di Windows e quindi quando andate ad aprire Bluestacks vi esce tipo un errore, questo tipo di errore che è incompatibile con le impostazioni di Windows però se andate su Review vi porterà sulla pagina di aiuto del supporto di Bluestacks quindi andate su questa pagina, proprio qui c'è lo strumento personalizzato che sarebbe questo setup, questo qua voi cliccate sopra facendo esegui come amministratore, quindi voi dovete scaricare questo strumento personalizzato ed eccolo qua e avviarlo come amministratore, ecco qua quello una volta finito il caricamento di questo Hyper una volta finito questo caricamento vi dirà di riavviare il vostro PC se in questo caso non dovesse funzionare questo HD Bluestacks Hyper c'ho altri trucchetti, c'ho altri trick per risolvere questo problema fate su OK e riavviate il vostro PC io l'ho riavviato già 5 volte, non mi va di riavviarlo di nuovo quindi se in questo caso non dovesse andare andiamo un attimo su attiva o disattiva funzionalità di Windows eccolo qua scendiamo fino a giù, fino a trovare questa cartella Hyper questo non ho capito se è V tipo video oppure 5 dovete selezionare questa spunta su questa cartella scendere fino a giù, fino a trovare piattaforma macchina virtuale mettere la spunta anche qua sopra e sulla sandbox di Windows e fare OK una volta fatto OK riavviare il vostro PC una volta riavviato andate su Bluestacks 5 e avviatelo come amministratore ovviamente io non ho problemi con Bluestacks quindi adesso lo chiudo chiudiamo Bluestacks questo non so cosa sia avvio Bluestacks come amministratore faccio sì ed eccolo qua non mi esce quell'errore fastidioso e funziona perfettamente io adesso voglio provare a fare una cosa cliccando due volte su Bluestacks 5 e vedere se funziona senza no vediamo ok ok allora il problema è questo se io adesso clicco due volte su Bluestacks 5 mi esce così e mi porta su questa pagina quindi bisogna per forza abilitarlo come amministratore quindi avviarlo come amministratore e funziona e funziona quindi come ho detto vi porterà su quella pagina per scaricare questo driver questo setup voi lo scaricate e avviate il vostro pc se non dovesse andare c'è la funzionalità di Windows attiva o disattiva funzionalità di Windows fate quello che ho fatto prima e riavviate il vostro pc ritornate sul vostro desktop e fate esegui amministratore esegui come amministratore Bluestacks 5 ed eccolo qua pronto all'uso quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi più di questo più tutte queste informazioni che ci ha dato il supporto di Bluestacks quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi lasciate like iscrivetevi al canale per i prossimi tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao